Ciao Trader, siete su Scalping the Bull. Analisi tecnica e grande annuncio a fine video. Sigla! Welcome to the Scalping the Bull. Ma chi è che ha una sigla così interessante? Così da The Club di Milano, troppo avanti. Infatti, come sapete, io faccio i video solo per riascoltare la sigla ogni volta. Allora, oggi grande annuncio, quindi seguite fino in fondo. E niente, sono emozionato. Detto ciò, andiamo a vedere oggi perché è stata una giornata di mega schiaffi, mega schiaffoni e bitcoin. Partiamo ovviamente da bitcoin e niente. Allora, l'ultima volta abbiamo notato che bitcoin era più forte rispetto agli altri grossi e oggi invece è stato più debole degli altri. Decisamente più debole degli altri. Quindi, insomma, abbiamo pareggiato un po' i conti. Effettivamente è stato bello come analisi perché abbiamo visto, almeno io ho notato in quel momento lì, che c'era qualcosa di strano perché c'era Ethereum, ADA, eccetera, che erano più deboli. E qua è la candela, vedi, era sotto la 5 alla 10, mentre con bitcoin eravamo sopra la 5 alla 10. E ovviamente non solo Ethereum, ma anche gli altri erano messi veramente male. Vedi, erano tutti sotto. Quindi gli altri grossi erano molto deboli e alla fine è stato così. Però oggi bitcoin ha recuperato tutto. Assolutamente ha recuperato, facendo la candela più lunga rispetto ai grossi e schiaffeggiando veramente a destra e manca. E vi vorrei dire una cosa prima di finire l'analisi, anzi ve lo dico dopo, per quanto riguarda il trading, perché io praticamente, anzi andiamo a vedere subito, mettiamo time frame 5 minuti. Time frame 5 minuti. Il crollo di stamattina. Allora, stamattina, ecco, dalle ore 4, 4 e mezza, crollo, verticale, non si è mai fermato, diciamo. E io cosa ho fatto? Ve lo faccio vedere subito, perché è interessante. Giusto perché dite, mercato crolla, non si può lavorare in spot, perché si può solo lavorare con short. Ah sì? Allora, a parte che di notte, sosta PP, ha fatto un'operazione su Troy, ovviamente su spot, follia totale. Dopo magari ne parliamo. Ma, quindi subito, 9.43, ah beh, no, questa è piazza affari. Qua, long su Gala, long su Troy, long su Troy, long su Sol, long su audio. AVAX short. Che ore sono? 17.05. Quindi il mio primo short, ore 17.05, praticamente fino a giornata. Ultima operazione, long. Quindi tutt'oggi, sempre long. Cosa vuol dire questo? Che non è che avete bisogno, per forza, di andare short se il mercato scende. Anzi, c'è anche il video che vi spiega come poter guadagnare sul canale, lo trovate. Come guadagnare quando tutto crolla, e praticamente vado sempre long sui rimbalzi, no? E capite che poi ci sono i rimbalzi, no? Non è che si va sempre solo giù, non esiste il mercato che va sempre solo giù, come non esiste il mercato che va sempre solo su. Però riflettete, non c'è bisogno di andare short per guadagnare quando il mercato scende. Poi, io amo andare short, ma nonostante questo, ho fatto un solo short oggi. Questo, unico short, Avax. Molto interessante, però insomma, uno solo. Tutto il resto, long. Ah, poi oggi ho pubblicato per la prima volta la mia foto. In anteprima ve la faccio vedere anche a voi. Eccomi. Qua mi si vede bene, qua sono all'evento. E niente, so che magari pensavate fosse un po' più sportivo con i capelli, ma invece niente. Non ci vedo una mazza. C'ho i baffi, i sopracciglioni, amen, ok? Quindi finalmente siete apposta che mi avete visti in faccia. Sono arrivati anche i badge per il prossimo evento. Spettacolo. Niente, volevo far capire questo perché in tanti ho visto che avete scritto sono su spot, non posso andare short, non posso andare short, non riesco a fare niente. Eh, voglia. Ho fatto un solo short, uno solo. Un misero short. Ok, andiamo a vedere quindi cosa è successo. Mega crollo, dall'ora e quattro e mezza abbiamo visto e siamo andati a spaccare proprio senza problemi l'EMA 60, ma proprio senza nessun problema. Molto, molto male perché siamo andati quasi al livello di questo spike di panico. Molto male, ok? Perché molto male perché questo appunto è uno spike di panico. Non bisogna andarci col cash, quindi oggi scendendo ci saliva col cash, con i soldi veri a questo livello e non va bene. Nonostante rimaniamo sopra la 223, quindi non è un problema arrivarci, però è brutto che ci arriviamo subito. Adesso c'è da studiare, c'è da vedere se facciamo la finta come al solito e torniamo sopra la 60. Ok, quindi vediamo il cambio candela. Adesso sono le ore 20, prestissimo perché in trentino tempaccio, quindi niente giro in bici e niente giro fuori. Quindi video presto, quest'inverno farò molti più video, vedrete. E quindi vediamo se è una finta, arriviamo al 60, quello sarebbe un ottimo segnale. Se rimane sotto, malino perché rimaniamo incastrati, iniziamo a essere dentro, schiacciati nel segnale Shimano, capirete prossimamente. Chi segue Telegram ha già capito. Comunque rimaniamo incastrati fra l'EMA 223 e l'EMA 60, abbastanza pericoloso. Se andiamo a finire sotto, vedremo. Comunque per adesso bruttissimo segnale, ma non è detto, insomma, finché siamo sopra la 223 il trend è sempre rialzista. Quindi non è un problema. L'unica cosa, un po' brutto, è che la 60 non abbia fatto da supporto. Passato come il burro oggi, abbastanza male, ma vedremo, potrebbe riprendersi. Andiamo a vedere il time frame, 30 minuti, come siamo messi. Time frame, 30 minuti, vedi, crollo, perfetto, l'incrocio. Molto male questo incrocio, molto male. Malissimo, anzi. Vabbè, comunque adesso stiamo arrivando, quindi adesso potrebbe andare, ecco, vedi, fino a cambio candela potrebbe essere in positivo, sta rompendo finalmente la 10. Tutto oggi che sta sotto la 10, cosa succede quando c'è qualcosa che sta per tanto tempo sotto la 10? Che quando rompe tende a andare a testare l'EMA dopo. L'EMA dopo è molto distante, quindi potremmo fare questo miracoloso recupero. Vedremo. Ok, andiamo a vedere, prima di andare a mediterium, vediamo cosa c'ho qua, su Futures. Quindi su Futures c'ho Coti, ma sono tutti più o meno uguali, insomma. Ovviamente grafici diversi, ma candela rossa praticamente tutti. Coti siamo rimasti comunque sopra la 60, quindi molto forte. Qua addirittura Atom ha sfiorato la 10, quindi tranquillamente nessun problema. Gala, qua su Futures vediamo solo tre candele, comunque ha fatto un bel ritracciamento, ci voleva, guarda, addirittura è arrivato a 0.86, incredibile. 0.86. Eravamo a 1, quasi 1.4 ieri. L'altro. Questa è domenica, questo è sabato. Near. Near. Schiaffeggiato, sotto ne è, però distanti dalla 60, quindi ha voglia, ancora in mega trend positivo. Audio, qua si vede poca roba, comunque candelaccia bruttissima oggi, perché è andato a rimangiarsi quello che era il breakout, quindi torniamo in zona di paludi, nella zona paludosa, nella discesa di prima. Vedremo. Sol potentissimo, mi è piaciuto tanto lavorarci, però abbastanza brutto. Ma sta già facendo il recupero. Comunque, ampiamente sopra la 60, quindi trend ampiamente positivo. Dopo che avete visto il video dello schiaffo, vedete che sul daily funziona uguale. Discesa, pulita, precisa, candelona verde, infatti avevamo fatto un giorno in cui vi ho spiegato, il giorno dopo bisogna vedere se era debole o meno. In caso di debolezza partiva lo schiaffo e lo schiaffo è andato a super segno. Super segno, quando supera addirittura il minimo precedente vuol dire che è veramente super segno. Di solito già, e sono già contento quando arriva sullo zero, sull'inizio della candela verde. Comunque, ah, poi vi ho fatto molto piacere perché molti avete iniziato ad utilizzare tecniche dello schiaffo e ho visto che ad alcuni è piaciuto veramente tanto. Io amo, infatti, questa tecnica. Poi, AVAX. AVAX. Ritorno senza nessun problema. Addirittura sopra la 10, quindi potenza massima. Tenetelo d'occhio AVAX perché è veramente potente. BNB. Debolissimo BNB. Molto, molto, molto debole. Abbiamo dei prezzi già molto interessanti. Abbiamo 320, quindi la 223. Cioè, siamo incastrati come Bitcoin, perché appunto Bitcoin ha recuperato rispetto agli altri grandi. Qua c'è molto spazio, però comunque malissimo perché qua siamo andati invece sotto questo spike di paura. Molto male, perché arriviamo con i soldi sotto lo spike. Non so se avete capito. Cioè, qua ci arrivi per panico, ok? Quindi è un po' così a casaccio. Ha poco valore quando fa uno spike di panico. Infatti poi ha recuperato tanto, è andato a finire esattamente sulla 60, quindi ha poco valore questo. Ma se ci arrivi tradando, quindi senza il panico, come oggi, malissimo. Quindi butta abbastanza male. Però siamo sempre sopra la 223, è ancora molto distante, quindi va benissimo, non è un problema. E TH ha rotto la 60, quindi molto male. Molto male, vediamo anche se anche TH si recupera. Andiamo a vedere, 30 minuti. Sempre la 10 ha tenuto abbastanza bene, qua un po' sporcato. Adesso siamo già sopra, quindi è un po' più forte, perché siamo già sopra la 10. Se Bitcoin ci stava andando adesso. Phil. Phil adesso sembra stia recuperando la 60, però guarda che era 120 e siamo a 76. Quindi siamo tornati un attimino su pianeta Terra. ACM sulla 60. UTK. UTK lo possiamo cambiare. E mettiamo, invece di UTK, OMG. Ho visto che siete un po' appassionati. OMG che ha fatto, ecco. Questo è OMG, giornata schifosissima, è arrivata a 7.8, siamo già a 10, è arrivato addirittura a 11.3. Vedete il grafico, a 5 minuti. Wow, questo sì che è un recupero. Questo è un bellissimo recupero. Spettacolare. A tappe, respira, bellissimo. Molto bello. Ho fatto zero eseguiti io. Zero eseguiti. Bene, molto male. Questo me lo tengo per domani, quindi OMG. E andiamo a vedere. Non sto inserendo niente perché nell'alert, perché siamo tutti, è tutto sfondato. Non siamo al mercato, completamente sfondato. Quindi tutti i riferimenti sono così. Quindi pesca io eviterei. Nessuna pesca. Perché? Perché non sappiamo cosa fa stanotte. Potrebbe recuperare tanto come potrebbe crollare tanto. Quindi evitate. Finiamo con CFX potentissimo, arrivato alla 5. Però, guarda dove era. 0.84045, siamo praticamente a metà. OMG, siamo andati a 10. Quindi potentissimi questi. Troi, follia di ieri, spettacolare. Arrivato a 0.4. A 0.04. Adesso è 0.015, tenendo di conto. Sentiamo 30 minuti perché questo è galattico. Galattico. Io ho fatto questo rialzo qua. Di notte. Stanotte vado a letto presto. Bene. E andiamo a vedere un attimino la situazione altrove. Quindi. Ah, ok. Vi ho parlato già qua di Telegram. Dov'è qua? Vi ho parlato già dell'operazione. Quindi capite che anche se il mercato va in discesa, si può guadagnare tranquillamente andando long. Io sono l'esempio. Quindi alla grande. E, ok. Di cosa vi voglio parlare? Ufficialmente ho una data per Beta Channel, che adesso si chiama Beta Channel, ma che sarà BullBot. Quindi il bot che abbiamo fatto con gli scienziati pazzi, ok? Questo in realtà l'abbiamo fatto io, Stefano e Matt. Abbiamo testato, abbiamo provato e abbiamo un sette... Dalle sei, otto configurazioni per la data di partenza del 9 a 7, credo. Poi vedrete, vi farò un video. Quindi la data è giovedì, ok? Giovedì mattina. Io mercoledì sera, mercoledì sera, vi... Mercoledì sera farò il video. Quindi ci sarà il video che vi spiega come funziona, quali sono i segnali già attivi. Ovviamente è comunque una versione ancora sperimentale. E vi spiegherò tutto. Tutta la situazione, come funziona, come poterlo utilizzare e che tipo di segnali sono. Sono segnali di configurazione, ok? Quindi vi arriverà una configurazione, quindi voi vedete il titolo, aprirete, troverete una configurazione e da lì dovete decidere cosa fare, ok? Non è compra questo e va chissà dove, o vendi questo e va chissà dove, no. Segnale di configurazione, quindi dovete comunque studiare. Quando studierete e saprete cosa fare quando vedete un grafico, sarà utilissimo. Se non studiate e non sapete cosa fare quando vedete un grafico, non servirà a nulla, ok? Quindi la scuola vi dà a disposizione, la Bull School vi dà a disposizione un strumento incredibilmente potente. È una bomba, vedrete. Perché addirittura anticipa le cose, addirittura c'è un segnale che anticipa gli incroci. Ti dice quando sta per arrivare a fare i nuovi massimi, i nuovi massimi rispetto al giorno prima. Guarda, vi dico, è una roba eccezionale. Siamo solo all'inizio. Però dovete studiare. Se non studiate e non sapete cosa fare quando vedete un grafico, non ve ne farete niente. Non vi farete niente di questo incredibilmente utile segnalatore, ok? Frontalmente comunque abbiamo sempre il nostro fantastico, la fantastica sala operativa. Allora, i ragazzi, bravissimi tutti quei grafici. E questo ovviamente rimane. E in più aumentiamo, perché aumentiamo sempre la tecnologia, dobbiamo cercare di agevolarci il più possibile. E avremo il Bullbot. Bullbot mi piace tantissimo. Bene, detto ciò, vi saluto e grazie. Iscrivetevi a YouTube, Telegram, i due gruppi Telegram, Discord e ciao.